La casa della madre Cappuccetto rosso camminando nel bosco, prende la strada più corta, passa per Cammartana Cappuccetto rosso camminando nel bosco, chiude l'ombrello, cammina, cammina, cammina in mezzo alle frasche di Cammartana Eccolo cammina, cammina, cammina e vai! E tu, tu, tratto, esce il lupo Cazzu! Ma non mi dico io! Dove vai? So cazzini! Risponi bene Vado da mia nonna, se stai bene Facciamo così, voi prendi la strada più corta? Io prendi la strada più corta e facciamo che arriva prima Qual è la pellucca? La sai che è quella che hai chiesto a tua madre, che te l'ha detto? No, quella che hai chiesto a tua madre. Va bene, va bene. Il lupo cammina in mezzo alle frasche. Volare. La puccetta la passava dalla nonna. Il lupo arriva alla casa della nonna e bussa. E' così bello, perché? Non vede. Non vede, non dina. Non vede, non dina. Cabuccetto rosso arriva dalla nonna finta. Ciao, no. E' quel lupo che ha? Il lupo che si spacca. A me? Ah no? Ma che scoppareglie che c'hai? Ma che c'hai? Per guardarti meglio, punto figlio di troia. Però c'è il naso che mi pare quella zaccola di tua madre. Ma pure a me? E c'è una bocca proprio come quello stronzo di tua madre. Il cacciatore arriva, il vendicatore e il pulito. Con tu, 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 con tu. E così fai. Vediamo qui Luca Rompietti che faceva il cacciatore e la nonna. Guino. Vediamo Gazzani che faceva il lupo. E sgrigna Gabriele, primo attore, che faceva il cappuccetto rosso. Welcome to Los Angeles of Hollywood, and on the Oscar stadium, and today is tomorrow. A Hollywood, nel palco dove i tuoi vestigiali dell'Oscar, abbiamo visto l'Oscar per il miglior attore del mio film, ma vediamo The Beatles, The Beatles and Led Zeppelin. Questo è il premio importante che per il mio film ha il cappuccetto rosso and il logo. Monica Levitsky, oh what the beat. Oh, applausi. Alleluia, complimenti. Non protagonista, protagonista. Vediamo che cosa. Sgrigna, il miglior attore. Sono con boss. Seguito più delle... Due copie vendute. Questo Oscar, lo dedico a tutti i bambini. Per vista sgrigna. Ecco qui è un rivisto sgrigna, un evento nazionale, per la rete RTL2. Allora, come si sente per ricevere il miglior premio del mondo, quello internazionale? Pubblicità. Scott Vippen, campione con i Chicago Bulls del mondo. Vediamo, lui beve ginsana, percorre tutta la città palleggiando. Anch'io mangio ginsana. Il italiano perfetto. Oh, capolari. Sono un amico. Non mi prende il piede, eh. Che cazzo è fatto? Il figlio! Che dì? Il figlio è cazzo. Cosa è succedendo? Mi sa scordare? L'ho lasciato bene. E' smuccicato. Lina Seda mostra, Forse Grigna. Ciao Michio. Che cazzo vuoi? Scusi, ma là dove va questo pennello? Per pitturare una parete grande, ci vuole un pennello grande. No, non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale, la grande marca. Con l'opzione di ritmo puoi chiamare tre numeri telecomitari, due tipi di rosa telecomitari a un milione e mezzo al minuto. Così, pronto? Fa schigio. Pronto? Sì? Ah, puoi scendere il primo ritmo? Certo. Il primo è quella cioccolata di tua madre, il secondo è quel gran figlio del mio mignotro del tuo padre, il terzo è quella scrofa di tua sorella. Ha solo un milione e mezzo al minuto. Sì, certo. Ah, ma ci sta una mucca, ci sta a vincere su questo bignone, mi ha fatto partire. Stanno a mandare gli schiali, dobbiamo arrivare a parte, mi ha fatto. Ma, donna, mi ha fatto. Guarda, guarda la cazzo mucca, mi ha fatto. Sì, a te chi ti ha già messo l'acqua. Sì, a te chi ti ha messo l'acqua.